Per computare un oggetto, occorre selezionarlo dalla tavola grafica del livello. Selezioniamo ad esempio un vano. Di seguito, andrà acquisita la voce di elenco prezzi. Lo possiamo fare da un qualsiasi documento di tipo listino, progetto o contabilità, aperto a seconda del caso con Primus, Primus Progetti o Primus DCF. Oppure, selezionando Apri Prezzario, possiamo aprire il listino o prezzario che di consueto utilizziamo per fare computi metrici. Ricercata la voce di cui abbiamo bisogno, ad esempio un pavimento, con il drag and drop la trasciniamo sull'oggetto nella sezione computo. L'oggetto che si sta computando sul disegno viene campito in verde. Lasciando la voce, compare il dialog in porta metacomputo, nel quale, in base all'oggetto che si sta computando, sono forniti alcuni modelli di misurazione, che fanno già parte dell'archivio del programma. Per il vano, oltre a superfici e volume, abbiamo anche un modello per il pavimento. Scelto il modello, abbiamo la voce di Api, con indicato per quale vano è stata computata, e al fondo abbiamo il totale della voce ed il totale generale. Nell'elaborato computo, nella colonna Designazione dei lavori, è inserita la descrizione del vano, il soggiorno, e nelle parti uguali, la superficie. L'elaborato computo non è modificabile, ma effettuando un doppio clic sulla voce, accediamo all'editor delle misure, da dove visualizzare o modificare il modello di rigo di misurazione. Per computare altre voci, procediamo allo stesso modo. Dall'elenco Prezzi, selezioniamo ora una voce per computare il battiscopa, e selezioniamo il modello specifico. Nel computo avremo in questo caso due righi, uno per il perimetro, l'altro in detrazione per le porte.